Il Genif d'October so'n pieder Alcantara Confessur. Il so'n Confessur è nascosto in Lione e Melia 499 ad Alcantara per Lisbon e per qualsiasi surnom. Bajn edukau se se s'bun z'jeniturs e rëpia dërgjatë të fon fek e nklinaus të far oracjun e të dina vuleve el pia dir për tërnos e kasa e të mbezelja. A shia kërsheve el bomo elcë onës, mo bajnë era e nëzvërtic edhe nëzë shtudis. Per dëvantarin premurau su andonte dë Krishtus, entril juven dhe seti xontë e juadën dhe son franceshj a ma në vjes. E l'quartemz dhe noviciat fegeve el conspert e tafra dat shmerveja tot i l's paderse. Sez ei z'ai mai shtai dritzais in personas ni causes e per quai en konexhevel ses confrars su lete main vit lavush e su andave els era mosu entre l'iltund i l's pas. Su ente siu profes shto piede mi dar claustra. Cun l'ubient jo da siu superiur ashti el bagajaren irt in a cela mau perell per seve manari na veta si penitenta e shtrenta s'copu saivel. Keu se nutres il soin penitent mo da freze di arvas e quai mo cunina cevera per jamna. Se su ente in tre zon su andai cera i su nutrius mo da paun e daua. El convent su vexel a tots com far las plis patites lavurs. Per bo pli d'arcica malnizaivel e per ca sia le onge vengi bain rigida, tregna la dina e in bocet socconi carpelz. Mals e travaglias, persecuzions e tentazions soffrevel per amur da diu gent, quai hai la via la pli corta e seguire per contonger la perfecciun. En sia shtrenta sela veve il nua dauter che il crucifix, la bibla ed il breviere. E quella pau predata è stata la perla evangelica che el practicava per promuovere il uorden da sogn franzesti. Se venza il sogn sta uscus per traizzer e traizzer diu ed è in orazione con la braccia stendidora e con legata incontraciel. Con suo verventurà, ha piede retteniù la muria o'r piu ora plievio daulis a nadat a non d'un brei vels malzauns, ma da gauzzopse e ciocs i daunc faig piaras autsras miracles. Il fiuc della caretcia tirdiu ha artesì fetti che il pretende scho'an prem, che il padre splendigna le spintes celas nua che il sande vivere traiz con peis bloc. Seguendo che sia morto è stata avvisata, è stato venuto a visitare la nostra donna, il sogno di un evangelista che ha portato il sogno, il gioio di ottobre di Ioni Meli, a 512, per i angeli del perviso. Aggi preciosa è la morte di cui sogno pietro al cantare la stagione. E in solemna processione, è la barra veniva portata tra la baseglia di Arenas e Papa Clemenzi il Nuoval, canonizzata quale grande sorviene di Dio Ioni e Meli assiste a 69.